buongiorno a tutti e benvenuti sul canale dedicato alla fotografia in grande e oltre grande formato sono marco narratore oggi presento un libro originale e affascinante intitolato il libro fotografico italiano 1931 1941 scritto da giorgio grillo e pubblicato da danilo montanari editore con questo libro chiudo la serie di puntate dedicate alla fotografia italiana in una delle puntate precedenti avevo anticipato che avrei sorvolato sul periodo del fascismo in quanto volevo dedicargli una particolare attenzione questo libro serve esattamente allo scopo mai come in questo caso l'informazione contenuta nella presentazione della puntata complementa le cose dette consiglio quindi di dare uno sguardo anche alla descrizione della puntata anche a questa buon divertimento ho detto libro originale affascinante originale perché il tema del rapporto tra fotografie periodo fascista attenzione non ho detto tra fotografie fascismo perché il libro è molto di più viene trattato attraverso la presentazione di 100 libri pubblicati nel decennio considerato e quindi un libro su libri per modo di dire affascinante perché il libro è molto visivo con centinaia di fotografie quindi anche solo sfogliarlo è francamente un piacere il libro consiste di 260 pagine circa le prime 38 sono di introduzione al decennio in questione la descrizione del contesto e del pregresso storico tutte le altre sono la presentazione di questi 100 libri ognuno con la sua scheda quindi ad ogni libro viene dedicata in media poco più di due pagine nelle pagine introduttive le 38 pagine di cui dicevo prima vengono inclusi molti rimandi alle schede che seguono il libro è rivolto a persone con un forte interesse sull'argomento collezionisti e ricercatori come riportato nel libro all'inizio dei 100 libri trattati le schede sono divise in due fasce la prima dopo autore titoli e dati editoriali riunisce tutte le informazioni disponibili sulla confezione del libro non presenti nel frontespizio a questa prima sezione tecnica segue poi la parte con le informazioni storiche critiche biografiche i dati forniti su ciascun libro sono estremamente dettagliati fino al punto di fornire le dimensioni in centimetri piuttosto che le pagine fuori numerazione il sottotitolo del libro legge sperimentazione industria propaganda che se volete potete anche prenderle come indice del libro sono infatti questi i tre temi trattati per grillo la fotografia italiana nel decennio in questione cade in una di queste tre categorie una sperimentazione sotto gli effetti dell'onda lunga del futurismo più o meno riletto la nascita di una pubblicistica fotografica industriale e ovviamente data la situazione politica la propaganda di regime non dovrebbe sorprendere anche scoprire che i processi osmotici tra questi tre ambiti erano ben presenti così come erano presenti operazioni di pura propaganda ma anche di pura sperimentazione questi ultimi riuscendo ad infilarsi quindi tra le maglie della censura prima di entrare nel merito del libro è fondamentale presentare il contesto storico ed artistico del periodo lo facciamo attraverso una pubblicazione fondamentale cioè il corriere fotografico questa rivista con base a torino fu pubblicata dal 1904 al 1963 la scadenza cambiò nel corso degli anni dopo il primo anno in cui fu con quindicinale fu a scadenza mensile dal 1905 al 1957 passo poi scadenza bimensile e poi trimestrale il corriere fotografico fu la voce della fotografia italiana per tantissimi anni una data però che va ricordata il 1923 quando la rivista cambia proprietà e viene acquistata da tre giovani carlo baravalle achille bologna e stefano briccarelli che saranno anche noti come le tre b che iniziarono ad internazionalizzarla avvicinandola alle ricerche d'oltre alpe e anche come dice il d'autiglia nel libro che ho recensito nella puntata 69 parlando delle intenzioni dei nuovi proprietari l'iniziativa non vuole più rivolgersi ai soliti dilettanti altolocati con ambizioni artistiche l'italia in ritardo non viene invitata alle esposizioni internazionali e sospetta delle avanguardie in nome di un passato ingiallito continua il d'autiglia scrivendo le tre b vogliono fare della rivista il laboratorio di una fotografia italiana moderna restando però chiuse al modernismo e poi scrive ancora è lo stesso mondo amatoriale del resto che è rimasto indifferente anche al messaggio futurista del bragaglia dei bragaglia fratelli fratelli che abbiamo già incontrato quando discusso il libro del d'autiglia non dimentichiamoci che mentre il pittorialismo continua per tutti gli anni venti a dominare la fotografia italiana all'estero nello stesso periodo operava un man ray un western un molin aghi il futurismo fotografico in italia rappresentato dai fratelli bragaglia non andò molto lontano al punto che il lavoro dei due fratelli non solo fu largamente ignorato dall'ambiente pittorico in generale ma gli stessi pittori futuristi a cominciare da boccioni ebbero un rapporto con la fotografia assolutamente dall'alto in basso inoltre i bragaglia non crearono una scuola non ebbero discepoli quindi la loro ricerca non ebbe seguito e rese molto più facile marginalizzarli francamente il corriere fotografico inizia con il 1923 ad affiancare alla rivista mensile un manuario dal titolo luci ed ombre che afferma di essere la prima raccolta di fotografie artistiche italiane che vuole essere internazionale come contenuti ed estetica le intenzioni non sono propriamente allineate con le foto pubblicate che sono ancora molto legate al pittorialismo sfogliando un'edizione del 1930 per esempio troviamo ancora foto di paesaggi fortemente pittorici ritratte di signore della bella società bambine di famiglia chiaramente benestanti con i bei boccoloni tutti in un mare disfuocato e sdolcinato questo è il contesto possiamo adesso ritornare al libro di cui parliamo in questa puntata il libro comincia con una considerazione importante che avevo già trovato nel libro di d'autilia e cioè dell'importanza di un intervento di antonio bogeri intitolato il commento e pubblicato nell'annuario luci ed ombre del 1929 antonio bogeri scrive parlando di fotografia un rapido sguardo alla produzione internazionale rivela nei suoi caratteri più salienti un'evidente affinità di tendenza e di metodi ciò significa che essi rappresentano realmente lo spirito moderno della fotografia nella sua espressione universale tali caratteri fondamentali distintivi riguardano la scelta del soggetto la sua illuminazione e il punto di vista dal quale colpirlo nei pratici risultati di più appare bandita ogni concessione al gusto popolare e lo sfoggio di virtuosismi tecnici lascia il posto poco a poco ad una aristocratica semplicità dello stile ho messo nella presentazione della puntata due link il primo è l'intervento completo di antonio bogeri di cui stiamo parlando che ho scaricato dal sito di gabriele toneguzzi docente presso l'università di venezia il secondo link il secondo documento è un'introduzione ad antonio bogeri fatta da camilla chiappini da una parte bogeri ha un'importante personalità dall'altra non c'è molto su di lui l'importanza di antonio bogeri viene dall'aver fondato nel 1933 lo studio di grafica pubblicitaria forse più importante in italia torniamo all'intervento di bogeri come potete immaginarvi adesso che conosciamo il contesto in cui il contributo viene scritto quello che scrive bogeri dà fastidio a non pochi oltretutto ci ricorda grillo il bogeri critica le fotografie contenute nell'annuario con un'arma devastante cioè con sconfortante distacco e doverosa bonomia della serie questi sono proprio casi persi dove invece una parola elogiativa ce l'ha è per la famosa rampa elicoidale alla fiat eccola qua a noi una foto del genere sembra tra virgolette normale ma se storicizzate il tutto e lo mettete in un contesto di bambine con i boccoli pastorelle e paesaggi ottocenteschi vi potete immaginare come possa essere preso l'elogio di una foto del genere il grillo ripercorre la storia della fotografia italiana dall'inizio del novecento proprio attraverso il contributo dei già ricordati fratelli Bragaglia così come della scomunica di Boccioni che scrive al titolare della galleria futurista a Roma nel 1913 mi raccomando te lo scrivo a nome degli amici futuristi escludi qualsiasi contatto con la fotodinamica di Bragaglia è una presuntuosa inutilità che danneggia le nostre aspirazioni di liberazione dalla riproduzione schematica o successiva della statica e del moto immagina dunque se abbiamo bisogno della grafomania di un fotografo positivista del dinamismo grottesca la prosopopea e l'infatuazione sull'inesistente ma nonostante questo dover remare controcorrente in Italia beninteso il desiderio di uscire dagli schemi del pittorialismo ottocentesco e non solo come modo espressivo ma soprattutto come scelta dei soggetti cosa che aveva sottolineato con molta chiarezza il Boggeri rimane fortissimo e nel numero di gennaio 1931 della rivista futurismo Marinetti e Tato scrivono la fotografia futurista punto manifesto punto il padre del futurismo sdogana finalmente la fotografia ricordando il contributo dei fratelli Bragaglia ed elencando in 16 punti le nuove possibilità fotografiche questi 16 punti queste 16 possibilità fotografiche sono elencate nel libro trattato oggi o nell'articolo di Marinetti e Tato il cui link è riportato nella presentazione riporto solo un paio di queste possibilità fotografiche solo per darvi un'idea di cosa fossero le drammatiche sproporzioni degli oggetti mobili ed immobili è la prima l'interpretazione tragica o satirica della vita mediante un simbolismo di oggetti camuffati è la seconda data la retratezza dell'ambiente fotografico in Italia dell'epoca la propulsione in avanti che l'intervento di Marinetti e Tato fornisce serve solamente a riallineare l'Italia al resto del mondo non certo a spingere l'Italia più in avanti di altri paesi ok il grillo parla di questo periodo successivo all'intervento di Marinetti e Tato è ispirato da questo come di secondo futurismo e lo trova più debole dal punto di vista programmatico del primo futurismo fotografico quello prima della prima guerra mondiale dei fratelli Bragaglia e riconosce comunque l'importanza anche se scrive questa stagione lascia piuttosto perplessi di fronte alla prevedibilità programmatica e un po' di maniera di certi risultati come le esposizioni multiple e i fotomontaggi dedicati a Mussolini circondato da caschi guerrieri in marcia mentre viene delegata ad alcuni irregolari di grande fascino la ricerca dei percorsi più personali ed innovativi personaggi di grande fascino i nomi di alcuni di questi irregolari li abbiamo già incontrati nel libro di Dautilia ma vale la pena di ricordarli Bruno Munari Vanda Wurz Vinicio Palladini Luigi Veronesi il grillo si sofferma poi su due operazioni editoriali di notevole valore che accompagnarono a mo' di catalogo due mostri di fotografia futurista la prima tenutasi a Torino nel 1931 la seconda a Trieste nel 1932 in uno di questi Giuseppe Enrie fotografo storico torinese introducendo il catalogo parla del contributo dei fratelli Bregaglia finalmente il lavoro dei due comincia ad ottenere dei riconoscimenti e come scrive Grillo intanto l'attenzione per la nuova fotografia comincia a filtrare con insistenza negli ambienti professionalmente più aggiornati architetti, grafici, pubblicitari e interessati ai suoi risvolti funzionali ed interdisciplinari insomma la fotografia anche in Italia comincia a diventare il veicolo principe per la pubblicità da qui la grande attenzione verso la fotografia da parte dei professionisti del settore si parla di nuova fotografia era questo il titolo di un intervento di Guido Pellegrini presidente del Circolo Fotografico di Milano pubblicato sulla storica rivista Progresso Fotografico nel 1933 che è anche l'anno della quinta triennale introdotta con il sottotitolo Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna nuova fotografia nel senso di superamento definitivo dei soggetti pittorici da una parte e riconoscimento dell'esistenza di un vero e proprio linguaggio fotografico assolutamente distinto da quello pittorico i soggetti sono adesso ponti, automobili, la vita moderna, micro e macro immagini il linguaggio è quello di rappresentare in maniera implacabile quello che è nelle parole di Pellegrini quello che è scrive Grillo insomma a partire dalla grande triennale del 1933 filtrano compiutamente in Italia gli insegnamenti e gli esempi legati al Bauhaus che già avevano stimolato gli artisti e i fotografi più attenti in occasione, se non nella mostra di Stoccardo del 29 in occasione della precedente esposizione triennale e della Biennale di Venezia dello stesso 1930 ecco ed è a questo punto che l'autore introduce quello che rappresenta una figura importante all'interno della ricerca fotografica italiana degli anni 30 cioè Luigi Veronesi ecco due foto di Veronesi Luigi Veronesi fece dell'astrattismo il suo linguaggio primario anche come superamento definitivo della pittura e mantenne contatti anche frequenti con Molinaghi e altri artisti stabiliti nel frattempo negli Stati Uniti scrive Grillo la prima metà degli anni 30 è dunque cruciale anche per la nascita e lo sviluppo della grafica moderna in Italia che nella pubblicità trova il terreno più fertile il centro di questo vero e proprio fervore creativo è Milano a Milano risiedono innanzitutto tutte le tipografie le officine grafiche e le legatorie di punta in grado di fornire un adeguato supporto tecnico alle nuove esigenze stampa a più colori, sovrapposizione delle immagini uso di mascherature nuove tecniche interazioni tra fotografie, elementi decorativi e testo legature metalliche fino alle più ardite stampe su cellofan e altri materiali inconsueti i clienti chi sono i clienti? i clienti sono gli uffici pubblicitari delle grandi industrie italiane come Cinzano un esempio del quale vedremo fra poco e ovviamente la politica cioè il regime fascista è in questo mondo che si forma professionalmente Antonio Boggeri che ricordiamo era anche appassionato fotografo sperimentale che apre il suo studio di ricerca grafica nel 1933 dove opereranno personaggi del calibro di Munari Ricas, Max Huber, Erberto Carboni, Albe Steiner e altri la pubblicità è quindi uno dei propulsori di un nuovo modo di fare fotografia un altro altrettanto importante è l'architettura le riviste di riferimento in questo campo sono Domus e Casabella che, come scrive Grillo stabiliscono tutta una serie di canoni di impaginazione e di uso dell'immagine fotografica che saranno molto utilizzati in particolare nelle riviste di settore e in cataloghi di mostre ed esposizioni un esempio di questo è la costruzione a libro aperto che fonde due pagine in una oppure una notevole attenzione al posizionamento e all'effetto visivo delle didascalie la narrazione dei personaggi e delle testate che hanno influito in modo significativo in questo decennio continua con Campo Grafico che rappresenta il periodico di punta della tipografia italiana che, come scrivono i fondatori, è progettato, redatto e composto in ore non lavorative da operai e tecnici che lavorano in diverse tipografie e che per l'occasione si incontrano per dare le loro prestazioni gratuite nell'officina dove si stampa la rivista La fotografia italiana vive anche all'interno di una serie di riviste non specialistiche come L'Ufficio Moderno dedicata all'organizzazione aziendale ma attenta all'arte pubblicitaria oppure Natura con fotografie anche molto sperimentali i tessili nuovi, un periodico della snia viscosa la pubblicità d'Italia l'organo ufficiale del sindacato nazionale fascista agenzie e case di pubblicità piuttosto che l'almanacco aeronautico o l'almanacco letterario entrambi editi da Bonpiani o l'almanacco degli studenti milanesi e la politica ufficiale? Ecco, scrive Grillo un fermento creativo, coraggioso ed aggiornato quello sui periodici aperto a suggestioni e a contributi culturali difficilmente inquadrabili nei modelli artistici prediletti dal regime fascista ma anche il supplemento mensile al giornale storico di Mussolini la rivista illustrata del popolo d'Italia vera e propria emanazione visiva delle strategie culturali del fascismo ospiterà soprattutto negli anni 30 una mole veramente notevole e molto spesso stravagante di materiale fotografico reportaggi di eventi e mostre tavole, fotomontaggi e sperimentazioni visive la rivista illustrata si può considerare a tutti gli effetti l'anello di congiunzione tra la nuova grafica e la propaganda del regime è in questo decennio dove c'è la piena realizzazione da parte del regime del potere della fotografia quando usata all'interno della propaganda politica che raggiunse estremi tragicomici negli ultimi anni del regime con direttive emanate dal Ministero della Cultura Popolare e i giornali di tutta Italia di per esempio non pubblicare fotografie in cui il duce è riprodotto insieme ai frati fotografie fatte oggi durante la visita al santuario di Montevergine ma siamo nel 1945 non negli anni 30 mi fermo qui nel condividere con voi un frammento dello scritto di Grillo tante informazioni sono contenute in queste 38 pagine ma come già detto queste sono propedeutiche alle 100 schede che seguono inizia quindi la parte più visiva del libro e se volete la fonte del suo fascino ho contattato l'editore per chiedergli il permesso di riprodurre un 3 o 4 schede in modo che possiate apprezzarne il contenuto e apprezzare in generale l'opera permesso che mi è stato accordato e devo per questo ringraziare Danilo Montanari vediamo quindi 3 di queste schede in dettaglio diciamo rappresentative delle tre categorie industria, sperimentazione, propaganda invece di proporvi staticamente una noiosa scansione delle pagine vi offro invece un percorso visivo carrellando lentamente sulle pagine vi risparmi i miei commenti più o meno interessanti guardatele con calma e fate le vostre considerazioni del caso vi ricordo solo quanto detto all'inizio su ciascuna scheda e ve lo rileggo le schede sono divise in due fasce la prima dopo autore e titolo e dati editoriali riunisce tutte le informazioni disponibili sulla confezione del libro non presenti nel frontespizio a questa prima sezione tecnica segue poi la parte con le informazioni storiche, critiche e biografiche ok? questa è la struttura di ogni scheda la prima scheda è quella della Cinzano quindi industria grazie 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 la seconda scheda è un'operazione promozionale della snia viscosa ma come vedrete cade nella categoria sperimentazione un poema di Marinetti illustrato da Bruno Munari grazie 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 la terza scheda è pura propaganda un volume prodotto dalla federazione dei fasci di combattimento dal titolo opere costruite in 5 anni in occasione della visita di Mussolini a Torino nel 1939 la terza scheda è un'operazione promozionale alla nostra la terza scheda è un'operazione promozionale del tuo immagino in 5 anni la terza scheda è un'operazione promozionale le persone promozionale Grazie a tutti. 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 Ma sono questi particolari che dividono un libro industriale, se volete, da un'opera di passione come questa. Scusate, ma con questa considerazione molto personale dovevo farla. Come concludere? Un libro che mi ha affascinato. Il decennio in questione è trattato molto bene anche nel libro di Dautilia, ma qui il racconto è per immagini in questo. Tante, tantissime immagini. Questo è il periodo dove personaggi come Bruno Munari o Gio Ponti iniziano la loro carriera, quindi personaggi che segneranno il dopoguerra italiano e contribuiranno in modo determinante, all'interno delle rispettive professioni, non solo alla rinascita del paese, ma a posizionare l'Italia come centro di eccellenza mondiale. Il libro è chiaramente quello che si chiama in inglese labor of love, che potrei tradurre come un'opera prodotta per passione. Nel mio piccolo cerco di premiare chi ha il coraggio di fare operazioni di questo genere, nell'anno del signore Google, Facebook, Twitter, Instagram. Ciao a tutti